Bisogna crederci insieme in una scommessa. È una sfida che dobbiamo accettare, altrimenti non avremmo mai delle prospettive di sviluppo. Così il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, sulla riqualificazione del centro storico cittadino, argomento che ha tenuto banco negli ultimi giorni. Proprio martedì scorso le varie associazioni di categoria hanno formalizzato le loro proposte. Ranalli ha chiedetelo al sindaco, ha svelato la sua ricetta di rivitalizzazione del salotto della città. Il primo cittadino punta su una pedonalizzazione da realizzare a gradi per arrivare a un ampliamento, zeratiele stagionale, abbonamenti a prezzi ridotti per i residenti del centro storico per agevolare l'utilizzo del parcheggio di Santa Chiara. E non per ultimo Ranalli chiede alle associazioni dei commercianti di fare rete per realizzare il famoso centro commerciale naturale, che prevede un patto di intesa fra amministrazione, imprenditori, professionisti e tecnici, fondato sulla chiusura del centro storico alle auto, con l'abbellimento dell'arredo urbano, installazioni di panchine, luci e oasi di verde. E questa è una sfida che deve vederci un po' tutti quanti coinvolti, perché se non proviamo a cambiare, naturalmente non valuteremo mai quelli che possono essere i risultati. Io sono convinto che le città che lo hanno fatto prima di noi, alla fine sono riuscite ad ottenere dei benefici. Ha fatto uno sforzo comune da parte di tutti, vanno ascoltate le esigenze, a mio avviso vanno fatti degli interventi che cambiano a seconda delle stagioni, perché le problematiche sono diverse per il periodo estivo e il periodo invernale. Occorre avere delle regole certe e noi intendiamo procedere in questo modo. Cioè passare quando si può, ma quando deve essere poi chiusa e a disposizione della fruibilità, naturalmente le regole vanno rispettate da parte di tutti. Stando a quanto emerso nell'incontro di martedì scorso, la riqualificazione del centro storico dovrebbe partire da dicembre con l'isola pedonale.